Dopo aver scontato una bella pena detentiva per il reato di furto pluriaggravato, nel quale ricordo non era mai stata ritrovata la refurtiva, adesso si ritrova appunto una condanna per l'omessa dichiarazione dei proventi. È colpevole di evasione fiscale per non aver dichiarato all'erario i 4 milioni e mezzo di euro del maxicolpo ad un furgone blindato di cui era stato complice. Antonio Di Stazio, sessantenne e autista di quel mezzo, è stato condannato per la seconda volta un anno e dieci mesi dopo i quasi quattro per il furto pluriaggravato, ma non solo, teoricamente deve pagare anche un milione e nove di tasse, ma lui risulta nulla tenente e giura di non aver mai visto nemmeno un euro del bottino che invece si sarebbero divisi gli altri membri mai rintrecciati della banda. Non se la passa sicuramente in un paradiso come all'inizio si è potuto credere. Il colpo risale all'11 luglio 2016 quando il furgone blindato della Securpol, guidato da Di Stazio, sparì mentre stava facendo il consueto giro delle aziende orafe per ritirare gli scarti di lavorazione. Venne ritrovato una decina di minuti dopo in un'area di servizio di Baglialpino completamente vuoto, scomparso anche l'autista. Di Stazio, 5 giorni dopo, fu fermato a Lucca, ma del colpo mai nessuna parola. Trovandosi in carcere indagato per il furto pluraggravato nel quale non ha mai reso una dichiarazione, avrebbe dovuto comunque fare una dichiarazione di erediti nella quale appunto indicare questi elementi attivi e quindi secondo appunto sarebbe pacifica una confessione fondamentalmente ed è questa secondo me l'assurdità della situazione. Grazie alla riforma Cartabia Di Stazio non tornerà in cella ma potrà cedere ai lavori di pubblica utilità. L'applicazione della pena sostitutiva non è preclusiva del fatto di poter presentare poi un appello.